Cari ragazzi oggi vedremo cosa succede in Francia subito dopo la nascita della Repubblica e l'approvazione della Costituzione. Il re Luigi XVI come abbiamo detto era stato costretto a spostarsi dalla reggia di Versailles a Parigi dal popolo perché voleva controllare le mosse del re. Ovviamente questo re non andava bene e per questo decise di fuggire da Parigi. Perché prese questa decisione? Perché lui voleva lontano da occhi indiscreti organizzare una guerra addirittura contro la Francia in modo tale poi da indebolirla e di poter ripristinare la monarchia assoluta. voleva tornare a governare da solo in piena autonomia. Purtroppo i suoi piani non vanno a buon fine in quanto viene riconosciuto con la sua famiglia e riportato nella capitale. A questo punto ci sono due diversi gruppi che nei confronti di Luigi XVI nutrono pensieri diversi. Ci sono i rivoluzionari che considerarono questo gesto del re un tradimento, mentre ci furono i moderati che sostenevano che il re fosse stato rapito. Tra i rivoluzionari ci sono due gruppi, i foglianti che erano quelli un po' più moderati e invece c'erano i giacobini che erano quelli più radicali, quindi quelli che credevano fermamente nelle loro idee. Nascono diversi gruppi politici in questo periodo storico in Francia. Noi ci soffermeremo esclusivamente su tre di questi, i girondini, i giacobini e i culotti. I girondini erano favorevoli all'idea che la Francia dichiarasse guerra alla Prussia e all'impero asburgico per insorgere contro il re. Quindi la loro idea era quella che queste due realtà potessero muovere guerra per contrastare le idee e contrastare le attività del re. I giacobini desideravano invece la repubblica ed erano guidati da Robespierre che tra poco vedremo sarà un personaggio importante nella rivoluzione francese. I sanculotti invece erano coloro, era quel gruppo politico che organizzava le rivolte del popolo. Sia i girondini che i giacobini organizzarono un colpo di stato. Un colpo di stato significa che entrarono nel governo, destituirono il re, quindi lo cacciarono, gli tolsero il potere e lo presero loro. Il re a questo punto venne arrestato e condannato a morte. Quindi venne ghigliottinato. Per far fronte alla guerra il nuovo governo decise di imporre la leva militare obbligatoria. Quindi tutti gli uomini erano obbligati a far parte di questo nuovo esercito francese. Ovviamente furono coinvolti in particolare i contadini ma questa decisione non fu accettata ben volentieri tant'è vero che gran parte della popolazione organizzò delle rivolte soprattutto nella regione della Vandea. Il governo quindi si trovò a gestire una guerra interna contro coloro i quali non volevano far parte di questo esercito e una esterna contro l'impero asburgico e la Prussia. Quindi una situazione veramente molto complessa. I giacobini intanto per avere il consenso del popolo quindi per ringraziarsi il popolo decisero di limitare i costi dei beni di prima necessità. E per questo ci fu un ulteriore colpo di stato che portò al potere solo i giacobini. Il loro capo era Robespierre. Ora il governo francese era nelle mani solo e solamente dei giacobini che cacciarono i girondini e il capo dei giacobini era Robespierre. Con Robespierre inizia però purtroppo una politica del terrore. Perché viene chiamata del terrore? Perché chi si opponeva al governo veniva processato e condannato a morte. Molte furono purtroppo le persone che furono condannate alla ghigliottina. Un esempio è quello di una donna, Olimp, che aveva composto una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina che rivendicava un'assoluta parità con gli uomini. Un'idea assolutamente contraria contro quella dei giacobini e del loro capo. Per questo motivo venne condannata morte nel 1793. Il 27 luglio 1794 Robespierre ed i suoi collaboratori vennero arrestati e ghigliottinati due giorni dopo. Quindi vennero arrestati il 27 luglio e ghigliottinati il 29 di luglio. Poiché ovviamente la gente non sopportava più questa situazione di terrore. A questo punto si forma un direttorio composto da cinque uomini che resse la Francia dal 1794 al 1799. In questi anni questi cinque uomini cercarono di governare la Francia, molto provata dalla rivoluzione francese. in questo periodo emergerà la figura di Napoleone.